Buongiorno a tutti, io sono Carolina, lei è Maria e io sono Giulia e oggi prepareremo insieme il gelato vegano di fragole e banane Per prima cosa ci servono le fragole e le banane congelate quindi il giorno prima metteremo in un sacchettino, le taglieremo e le metteremo nel freezer e anche la stessa cosa, prendendo i sacchettini del ghiaccio metteremo del latte di mandorla all'interno in modo tale che si ghiacci per il giorno dopo Perfetto, possiamo iniziare Noi adesso abbiamo già messo nel nostro recipiente lo zucchero a velo dopodiché possiamo procedere nel mettere nel nostro frullatore la nostra frutta Vero Giulia? Sì, possiamo Vai Ok, insieme allo zucchero Dopo che abbiamo messo la frutta Ok, posizioniamo il nostro coperto Vai Sì, vai e rinocchiamo Ok Dopo aver frullato la frutta Riuniamo il tutto sul fondo Ok E poi mettiamo i nostri cinque cubetti di latte di mandorla all'interno Vai Giulia, metti in tutto Ok 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 Chiudiamo E Guardiamo Abbiamo il nostro gelato E il nostro gelato è pronto per essere mangiato Aspettate un attimo che vi facciamo vedere È un po' più liquido del solito Ma sta buono Ed ecco a voi il gelato vegano di fragola e banana Grazie a tutti e buona giornata Grazie a tutti